Vieni, vieni il mio salato! Traduci! Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! prezziare dei vigni e il gallasco, questo è meno gallasco. Quello che deve avere. Quello è vero fresco, si. Io non credo che resta lato. Andando in là, porta qua. E dei vigni ti faccio io! Grazie! Non orto nel posto, mangiando. Battista! Voglio l'applauso! Grazie, grazie! Voglio l'applauso! Voglio l'applauso! Voglio l'applauso! Allora! 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 La chiave delle volte, l'impalificatore iniziò a scricchiolare. Damigiane. Divino santo. Divino santo. Che le travò... Il 1200 non ci autorizza a dire che la torre sia del 1200. Anzi, potrebbe essere... Veramente c'è tra il 300 e il 400 il grosso proprio del castello. In cui si fa soprattutto quattrocentesche... la datazione del muro. Il muro. Di la parete... È antica. Che era appunto il volere rifare. Ma io direi che loro l'hanno fatto. Tra l'altro la torre è anche una coca ingrande per una torre che c'è nel castello di Savoia. Il castello della regina Marguerite. di San Già. Per Boudoir con i suoi piccoli. Che è così molto piccolina. E all'interno del castello. Come se vuoi? Buon appetito! Oh! 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 No! V fluidamente! No! Oh! E何i voglio titolare! No! No, via! Sì l'ho quinto! LIO! Niente da fare, niente da fare! uh! Eccola! Allora! 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 Allora!